Buongiorno a tutti, siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo. Professore, quali sono le novità di questa settimana? Beh, questa settimana ci sono diverse novità piuttosto importanti. Intanto proprio in queste ore, in questi giorni, inizia alla Camera il percorso l'iter parlamentare della legge di bilancio. La legge di bilancio, che per quanto riguarda la scuola, non prevede nulla di nuovo rispetto a quanto abbiamo già detto nei giorni scorsi. La legge di bilancio, lo ricordiamo, dovrà essere approvata entro la fine dell'anno, quindi entro la fine di dicembre, in modo da evitare l'esercizio provvisorio. Quindi si dovrà correre e anche parecchio, perché siamo già in pratica ormai ai primi di dicembre, fra poco, e quindi bisognerà davvero fare in fretta per evitare problemi. Bene, bene. Ci sono altri eventi rilevanti per il mondo della scuola in vista? Certamente il 2 di dicembre, cioè venerdì, c'è un evento importantissimo, che è la presentazione dei dati sullo stato sociale del Paese a cura del Censis. Sono dati che ogni anno vengono presentati proprio agli inizi del mese di dicembre. Quest'anno appunto la data è quella del giorno 2 e sono dati molto attesi perché descrivono un po' la situazione sociale del nostro Paese. E anche quest'anno, come spesso è accaduto in passato, il primo capitolo sarà dedicato esattamente ai temi, ai problemi della formazione. Quindi soprattutto chi si occupa di scuola come noi lo aspetta con interesse e con ansia. Vedremo venerdì che cosa ci racconterà il Censis su come sta la formazione in Italia, come sta in particolare la scuola. Mi pare che sempre venerdì 2 dicembre ci sia anche uno sciopero. Di cosa si tratta? Certo, è lo sciopero proclamato dalle organizzazioni del sindacalismo di base. È uno sciopero di carattere generale, quindi riguarda tutto il lavoro pubblico e privato, quindi ovviamente riguarda anche la scuola. Per quanto riguarda la scuola è proclamato dai Cobas, dall'Unicobas, dalla CUB, dall'USB, dai Cobas Sardegna e da alcune altre sigle. È uno sciopero importante perché non è rivolto soltanto ai temi della scuola, quindi il problema degli organici, il problema del precariato, il problema contrattuale, ma è uno sciopero rivolto a tutte le categorie. È uno sciopero che vuole essere anche una protesta nei confronti di una legge di bilancio che secondo molti è una legge avara non soltanto nei confronti della scuola ma anche nei confronti di molte altre categorie. Vedremo il venerdì 2 che cosa succederà nelle piazze, in molte piazze d'Italia. Bene, c'è invece una ricorrenza che cade sabato 3 dicembre. Perché è una giornata importante per il mondo della scuola? Allora, sabato 3 dicembre è la giornata dedicata al tema della disabilità. È un tema ovviamente importantissimo per la scuola perché se vogliamo fare una scuola inclusiva, cioè una scuola per tutti e per ciascuno, dobbiamo occuparci bene anche del problema della disabilità. Gli alunni con disabilità nel nostro paese stanno progressivamente aumentando, stanno aumentando anche gli insegnanti di sostegno, stanno aumentando anche le risorse che gli enti locali mettono a disposizione per gli assistenti per l'autonomia, per gli educatori e così via. Secondo molti tutto questo sforzo che stiamo facendo, che il paese sta facendo, però non è ancora sufficiente. Probabilmente c'è un problema non soltanto di risorse finanziarie, ma c'è anche un problema di cultura. Cioè ci vuole una maggior cultura dell'inclusione. Quindi il 3 di dicembre sarà proprio l'occasione per riflettere su questo argomento. Bene, grazie al vice direttore della tecnica della scuola, Reginaldo Palermo, per queste risposte. Un saluto a tutti, alla prossima. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.